In questo piccolo video informativo risponderemo a questa domanda, ovvero all'Eurovision. Quanti del nostro paese si sono portati a casa il premio, cioè il primo posto, quello più ambito? Ma prima di rispondere a questa semplicissima domanda, c'è molta attesa adesso, in questo momento, per Marco Mengoni, che è prontissimo per potersi mettere alla prova al palco del prestigioso Eurovision Song Contest, con il brano Due Vite, sapete quello che ha vinto il Festival di Sanremo, e praticamente come dimenticare anche il fatto che lui è stato già in gara nella Kermess musicale internazionale, ma parliamo di dieci anni fa, signori. Ora è pronto a tornare e, in attesa di scoprire chi si aggiudicherà il primo gradino del podio dell'edizione 2023, quanti sono gli Eurovision che ha vinto l'Italia? Nato nel 1956, l'Eurovision Song Contest è uno degli appuntamenti musicali più attesi, un'occasione unica per ascoltare musica da ogni parte di Europa, e non solo, ma anche per divertirsi seguendo una gara canora. Quest'anno a salire sul palco, per tenere alta la bandiera italiana, sarà Marco Mengoni dopo aver fatto furore con Due Vite a Sanremo 2023. Ma prima di lui come sono andati gli artisti italiani all'Eurovision? L'Italia è tra i paesi che hanno dato vita alla Kermess internazionale e ha vinto tre volte, tra l'altro la passata edizione è stata ospitata a Torino e lì si sono esibiti due dei vincitori del passato. Ma chi sono? La prima è stata una donna, ovvero Gigliola Cinquetti che si era giudicata la vittoria nel 1964 con un brano che ormai è diventato un grande classico della musica leggera italiana, ovvero non ho l'età per amarti. Sono dovuti passare quasi trent'anni, poi, per rivedere nuovamente un artista italiano dominare la classifica, a vincere nel 1990, infatti, era stato Toto Cotugno con Insieme, 1992. Recentissimo, infine, il primo posto dei Maneskin con la loro fit zitti e buoni. Brani diversi, che mostrano l'evoluzione della musica del nostro paese. Senza dubbio, poi, è stata storica l'ultima vittoria, che ha avuto il pregio di far conoscere la band romana a livello internazionale. Non si può dimenticare, poi, che in un primo momento era stata segnata da una polemica poi conclusasi con la totale assoluzione di Damiano. Tre anche le volte in cui l'Italia ha ospitato l'evento musicale. L'ultima edizione, come detto, si è tenuta a Torino e ha visto gareggiare per il nostro paese Mahmood e Blanco con Brividi, per loro sesto posto, mentre la vittoria è andata all'Ucraina. L'Italia ha partecipato all'Eurovision a partire dalla prima edizione a oggi, ma in maniera discontinua, non ha preso parte alla Kermess dal 1994 al 1996 e poi nuovamente dal 1998 al 2010. Interessante è anche vedere come si sono piazzati altri artisti italiani nel corso della storia della manifestazione. Ad esempio una delle canzoni simbolo dell'Italia, Volare di Domenico Modugno, nel 1958 aveva ottenuto il terzo posto, nel 1966 sempre lui si era aggiundicato un clamoroso ultimo posto con Dio come ti amo. Al terzo posto anche Emilio Pericoli nel 1963 con il brano Uno per tutte, Wes e Dory Ghezzi nel 1975 con Era, Umberto Tozzi e Raf nel 1987 con Gente di Mare e nel 2015 Il Volo con Grande Amore. Nella storia dell'Eurovision l'Italia ha ottenuto anche qualche medaglia d'argento, nel 1974 Gigliola Cinquetti con Si, poi nel 2011 Rafa Il Gualazzi con Follia d'Amore, Madness in Love, nel 2019 secondi posto per Mahmood e la canzone Soldi. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.